Una fase operativa in questo momento qui sul cantiere per le nuove scogliere? Sì, stiamo finendo il primo lotto delle scogliere a sud della pista di Coccard, siamo quasi in ultimazione delle 5.000 tonnellate previste per la prima fase. Finito questo cantiere ne inizierà un altro per il rifascimento della diga foragna del porto e si avverrà sempre di questo punto di scarico per le pietre che vengono sempre via terra. Ormai questa è una metodica che avete intrapreso perché le difficoltà permangono con il fronte marittimo. Sì, purtroppo i vettori che avevamo, che portavano la pietra dalla Croazia, sono impegnati altrove per cui abbiamo dovuto ripiegare su questo metodo via terra. Approssimativamente termine dei lavori, mare permettendo, meteo permettendo? Ma questo cantiere finisce questa settimana, devono arrivare altri due camion a scaricare e poi mettiamo tutti in opera. Subentrerà il prossimo cantiere per la diga foragna, come dicevo prima, che ha 7.000 tonnellate di altra pietra da portare. Quindi un'altra 40-50 giorni sicuramente.